Beh, eccoci qua. Ciao ragazzi e benvenuti nell'episodio piloto della nuova serie che voi avevate votato e con la stragrande maggioranza di voi mi ha detto il sì. Di cosa andremo a trattare in questa serie? Andremo a commentare dei personaggi realmente esistiti, con le loro storie, e andremo a fare un parallelismo con le varie mod di Earth of Iron 4. Io andrò diciamo a commentare quelle più importanti, però non vi preoccupate, lo vedrete in questo episodio. E che andremo a commentare per primo? Beh, diciamo che per omaggiare l'episodio pilota ho deciso di andare a guardare un personaggio che ha fatto quasi iniziare tutto il nostro progetto, è stata la prima serie di successo del canale, quindi senza alcun dubbio vi dico subito il nome, che è il Gran Duca Vladimir III Romanov. Ma partiamo dal luogo di nascita. Ecco qua! Pensavate che era tutto libero? Invece no, abbiamo anche una mappa dell'Europa. Fatto sta che Vladimir III nacque a Porvo in Finlandia, quindi tra Helsinki e Viborg si trova a Porvo, nel 1917, giusto in tempo per la seconda rivoluzione russa. Esatto ragazzi, la seconda rivoluzione russa, non la prima. Quindi, diciamo, lui nasce nel Gran Ducato di Finlandia, facente parte dell'impero russo, durante la rivoluzione bolshevica. Dalla Finlandia la famiglia scappa in Germania, perché giustamente sua madre, che di nome faceva Victoria Fedorovna, era del casato dei Coburgo Gotha. Sì, esatto ragazzi, ci sono sempre loro. Dopo aver saputo dell'uccisione dello zar Nicola II ad Ekaterinburg, per mano dei bolshevichi, il padre, Kiril Vladimirovich Romanov, si autoproclamò imperatore per linea di successione, con Vladimir come zarevich di Russia. Con la morte del padre, nel 1938, il nostro Vladimir III assume a tutti gli effetti il titolo di imperatore e autocrata di tutte le Russia. E se ve lo state chiedendo, sì, tutte le Russia intendiamo la Russia di Kiev, la Russia di Suzda, la Russia di Mosca, la Russia di Novgorod, la Russia di Crimea. No, scherzo. Ma fatto sta che prende tutti i titoli, nobiliari, ma a parte rivendicare il trono di Russia, è rimasto sempre nel suo castello a Coburgo Gotha. Però diciamolo, ha avuto una sua possibilità di ritornare in terra natia, però come reggente d'Ucraina. E questo è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Durante l'operazione Barbarossa, loro invadono prima di tutto tutta l'area dell'Ucraina e dei paesi baltici e offrono la reggenza e il trono al Gran Duca. Ma stranamente, grandissimo colpo di scena, rifiuta la reggenza. E voi vi direte il perché? E che diciamo che lui aveva questa paura di portare più scompiglio e più divisioni in Unione Sovietica. Diciamolo, visto che gli era arrivata la notizia di cosa era successa dopo la rivoluzione bolshevica e con la guerra civile. Quindi diciamo aveva un pochino paura che risuccedesse una seconda guerra civile. Ovviamente questo non piacqua ai gerarchi nazisti. E dopo l'ennesimo rifiuto di pubblicare un manifesto inneggiante a tutti i russi di cooperare con l'esercito tedesco, venne dapprima posto gli arresti domiciliari e spostato in un campo di concentramento a Compiegne, nella Francia occupata. Ma dopo il D-Day, venne spostato ancora più all'interno, nel castello di Amorbach, nel paese di Amorbach, in Baviera. Fino alla fine della seconda guerra mondiale, quando venne liberato, la Germania si arrese. Finita la guerra, da Amorbach si sposta ancora in Spagna, precisamente nella capitale Madrid, dove peraltro non muore qua in Spagna, muore a Miami in Florida il 21 aprile 1992. Ma ora passiamo alla parte succosa, interessante del video, quella che credo stiate aspettando tutti quanti. Il Granducan nelle varie mode di Erzofiron 4. Incredibilmente a dir sì, ma data la sua posizione come pretendente al trono di Russia, lo possiamo ritrovare in tantissime mode, compreso nella Vanilla. Infatti lo ritroviamo nella TNO, nella Kaiserreich o nella Kaiser Redux, nella Thousand Week Reich, nella Red Flood e nella sua Neo Mode, la White Russian Expanded, che però quest'ultima non andrò a trattare. Nella TNO inizia come semplice principe del principato di Vyatka, per poi diventare re e infine imperatore russo, a fine gioco. Ma nel durante possiamo scegliere tre strade diverse. Possiamo rendere il regime una monarchia costituzionale e liberale sotto il Partito Democratico Costituzionale con Romangul. Possiamo rendere la monarchia sì più liberale, ma sempre autoritaria e tradizionalista sotto l'Unione Nazionale di tutte le Russie con Vassili Shulgin. Oppure trasformare il regime in una monarchia semicostituzionale, autoritaria, formata da emigrati dell'esercito dell'Armata Bianca, con l'Alleanza Nazionale dei Solidaristi Russi, con Alexander Solcenizi come capo. Invece nella Kaiserreich o nella Kaiser Redux lo troviamo come successore a Kirill I, il padre come avevamo visto prima, se decidiamo di restaurare la monarchia in Russia. Dovremmo aspettare prima l'assassinio del presidente Kerensky e far sì che il granduca Vladimir Romanov, Kino Piotr Wrangel, salgano al potere. A questo punto potremmo scegliere se creare una monarchia costituzionale retta, come detto, da Kirill I e da Vladimir III poi, oppure renderla una monarchia assoluta retta stavolta da Dimitri II, lo stesso Dimitri Romanov che abbiamo detto prima, e Vladimir dopo. Nella Thousand Week Reich possiamo sbloccare il nostro caro Vladimir come leader dei falangisti durante la guerra civile nel Reich Kommissariat Moskovien. Ma come possiamo far scaturire questa guerra civile? Ovviamente anche qua bisogna fare un assassino. E stavolta la vittima sarà il Reich Kommissariat Siegfried Kasche e lotteremo al fianco della RPLA o the Russian People Liberation Army. Poi dovremo supportare Ivanov come pretendente e con la grande incoronazione il granduca diventerà Hazard. E l'assetto politico sarà quello di una dittatura fanatica atta a unificare la Russia nel più breve tempo possibile, prima che arrivi la Germania. Nella Red Flood non lo troviamo in Russia, bensì in Bielorussia, con il nome di Ulzimir I, sbloccabile non purgando il partito durante un periodo di turbolenza iniziale e scegliendo il polacco Tins, che ovviamente eliminerà gli altri due contendenti che sono Boris Savinkov e Latamanovi Tushka. L'obiettivo principale anche qua è la riconquista dell'intera Russia, però stavolta dai vari governatori ribelli. Ma a grande sorpresa lo ritroviamo anche nella Vanilla, in veste di Zar dopo aver vinto quella grandissima seconda guerra civile che tanto nella realtà ha evitato, però scaturita dall'opposizione interna a Stalin durante le grandi purghe del 38, meglio del 37 e del 38, e dalla ribellione dei generali zaristi stanziati nell'estremo oriente, vicino all'impero della Manciuria e supportati dall'impero giapponese. In conclusione possiamo considerare il granduca Vladimir III come oppositore del nazismo, un grandissimo patriota e personaggio chiave in molte mod. E niente ragazzi, questo video lo termino qua, spero che vi sia interessato, spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo e che vi abbia fatto scoprire un personaggio nuovo e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, statemi bene e cameraman saluta anche te. Ciao. Pensate ragazzi, con 40 euro di budget sono riuscito a trovare pure un cameraman. Tipo, non ho benediatri in base. Ehi, cosa? No, no, ho avuto soldi. Fine. Grazie. Grazie.